Allora, la lezione di oggi si chiama Orrori dentali. Ok, è una lezione molto interessante perché vi parlo, arriverò fino alla bocca bionica, ok, su quella che abbiamo chiamato bocca bionica per un motivo specifico, perché se no, se non usiamo le parole giuste, le persone non capiscono cosa hanno in bocca. Se io ti dico i nuovi denti, è diverso da bocca bionica, ok? Quali lavi bene bene tutti i giorni? La bocca bionica o i nuovi denti? La bocca bionica, devi lavare bene, ok, è un arto artificiale quello, ne devi tenere cura. E ci sono modi e modi di ricostruire la bocca, ci sono tempi e tempi di ricostruire la bocca, l'ideale è non arrivarci mai a ricostruire la bocca, ma andare a mantenersi la bocca. La bocca va mantenuta come quando siamo ragazzi facendo quella che è la prevenzione. La prevenzione è praticamente questo foglio che oggi vi ho messo, vi ho dato a tutti, che se fosse stato fatto dalle elementari, noi non saremmo qua oggi a parlare di questo, di bocca bionica. E se vi avessero detto le cose per tempo, ok, c'è un post, c'è un post da poco che sta girando su internet, dove c'è uno che insegna ai dentisti, ogni paziente è curato e un paziente è perduto, ok? Chiaramente non è così, non ragionano così i dentisti o i medici, noi non lo diciamo, ragionano al contrario. Un tempo il medico non era neanche, veniva pagato dal, facevano tipo il barato, ti do una cassetta di cipolle, grazie, sei venuto, hai insomma curato il figlio, il nipote. Poi è diventata una professione, sono nate le partite IVA, sono nati i dentisti, prima c'erano i medici in famiglia, poi i dentisti, poi l'Italia era in boom economico e a un certo punto era una cosa accessoria al dentista. Il dentista è costoso per motivi storici, il medico di famiglia non ti verrebbe mai di pagarlo 20.000 euro. Quanto vuole, quanto ti ha chiesto il medico di famiglia 20.000 euro, ma che matto, il medico è gratis. Però non si ragiona così riguardo al dentista, perché il dentista è venuto dopo ed era una cura accessoria. Veniva vista come una cura, all'inizio era il cavadenti, poi sono iniziati negli anni 70 gli impianti dentali, poi sono iniziate le protesi avvitate sopra gli impianti dentali, come questa, fino a arrivare poi a combinazioni di materiali, fino a arrivare a cose molto sempre più sofisticate. Quello che non è cambiato è il modello di visione nei confronti del dentista, che il dentista è una cura accessoria, come se la bocca non servisse per vivere, insomma non è una cosa in più. Se c'è lo stomaco che funziona bene, se no è accessorio. Fa parte dell'apparato digerente, ed è uno dei bisogni primari, mangiare. Non stiamo parlando di persone che devono fare i modelli, ma persone che si devono alimentare. Questa che vedete qua di fronte a voi è un'arcata di denti che vengono montati artificiali sopra impianti dentali. Gli impianti dentali sono delle viti che vanno dentro all'osso e la protesi è la parte che invece viene montata sopra gli impianti dentali. Questa protesi, come avanzerà la ricerca, sarà sempre di materiali nuovi. Gli impianti dentali, come avanzerà la ricerca, probabilmente non ci saranno neanche più, ma ci saranno magari delle stampe di materiali ceramici, oppure di materiali simili all'osso che vengono inseriti dentro all'osso. Oggi si usa il titanio, ma il titanio ve l'ho messo in mano lì, cosa c'entra col dente? Non c'entra nulla quella, è una vite. Stiamo montando in bocca, nel corpo umano, cose artificiali. Alla stregua di un'arta artificiale, di una gamba artificiale, e quando noi andiamo a connettere questi materiali artificiali col corpo umano, c'è sempre che cosa? Il rischio di rigetto, che magari non viene riconosciuto come self, e quindi che cosa fa? Il sistema di difesa si allerta, buttatelo fuori. Cosa è questa cosa che ci hanno messo vicino all'osso? In genere quando si hanno dei movimenti agli impianti, perché non sempre gli impianti sono ben solidi nell'osso, allora se quelli si muovono, hanno micromovimenti, non vengono riconosciuti. Allora lì si ha la perdita dell'impianto. Allora cosa succede? Che per evitare questi micromovimenti, gli impianti vengono legati tra di loro. Come? Con una barra. Così si evita di avere dei movimenti. Infatti per questo quando andiamo a togliere i denti e poi mettiamo gli impianti, preferiamo sempre fare quello che è il carico immediato, ovvero andare a unire già almeno gli impianti anteriori, intanto il paziente mangia, intanto le gengive guariscono già bene intorno agli impianti e in più abbiamo meno rischio di perdere gli impianti. Ci sono altre situazioni in cui l'osso è veramente tanto danneggiato e gli impianti che mettiamo non sono già abbastanza stabili nell'osso, allora quello è uno di quei casi in cui non conviene mettere i denti subito avvitati. Quelle sono cose che comunque vede il chirurgo quando avvita gli impianti, perché ha un macchinario che gli dice con quanta forza è stretto l'impianto. Se supera i 35 N ci puoi mettere avvitati i denti. E questa è una delle prime cose che vi sfatto, nel senso che abbiamo i pazienti che delle volte pensano di poter scegliere se fare i provvisori mobili o avvitati. Noi cerchiamo di tutto per farli avvitati, perché abbiamo un vantaggio, e ve l'ho detto, però delle volte non si può fare. Che restano solidali tra loro, ma non sempre superi i 35 N. Delle volte è burro l'osso, metti l'impianto, meno male che si è riuscito a metterlo. Chiudi tutto e cerchiamo di non caricarlo. Dopo sei mesi, quattro mesi apri e quello è bello solido nell'osso. Allora svitti. Poi cosa succede? Questa è una delle prime difficoltà che abbiamo, quindi il lato chirurgico. Lato chirurgico è che dobbiamo mettere dei materiali artificiali dentro il corpo umano e sperare che attecchiscono. Abbiamo già delle variabili là. Poi abbiamo le seconde variabili che sono i provvisori. E lì c'è la componente umana di comportamento dell'essere umano, che non avendo avuto da tanto i denti, gli mettiamo magari i denti fissi, avvitati, che fa torno a casa e inizia a mangiare. Non capisce che è una ferita fresca, quella è una frattura che deve tenere a riposo perché si saldi il calosso. Ci sono degli impianti che sono stati inseriti nell'osso, ma l'osso non è detto che sia mineralizzato ancora. Quello deve guarire. Anzi, più delle volte abbiamo la curva proprio di indurimento dell'osso. è una curva che dopo due settimane si ha il momento in cui l'osso è più tenero. Questo per esempio in altezza qua la durezza dell'osso attorno all'impianto e qua per esempio le settimane, mettiamo il tempo. Qua prima settimana, seconda settimana, terza, un mese e poi così in avanti. Quando io metto gli impianti nell'osso, all'inizio sono magari a 35 newton, possono arrivare fino a 100 newton, dopo che si rompe l'impianto, se è più duro giri, spacchi tutto. Supponi che ha questa forza nell'osso l'impianto come lo metti. Prima settimana, seconda settimana, fa così e poi piano piano sale e diventa ormai integrato l'impianto. Questo perché? Perché l'osso, quando fai una ferita, come tutte le ferite, si rimaneggia. All'inizio è la vita bella stretta nell'osso, poi attorno all'osso fa così blu e poi ru, si rimineralizza. Durante questa fase di liquefazione, quella è la fase più critica, dove conviene avere, se sono esposti gli impianti, una barra che li unisce. Se il paziente durante questa fase mangia cibi duri, per esempio, ci possono essere micromovimenti, che fanno avere poi l'espulsione dell'impianto. Allora, sono state poi adottate anche nuove tecniche proprio per evitare questo tipo di problema, che è per esempio l'ossiodensificazione. Io quando metto l'impianto, se questo è il livello dell'osso, se questo è il livello dell'osso, invece che forare, fare l'alloggio per la vite, ok, questo è l'impianto, che devo avvitare nell'osso, posso fare che cosa? Invece che togliere osso dove osso già non ne ho, posso allargare l'osso. Ok, lo posso, il foro, anche sottodimensionare le frese, faccio un foro più piccolo, come questo, e posso far girare le frese al contrario. Invece che tagliare, faccio compattare. E quindi che cosa faccio? Modifico la densità dell'osso, dove dovrò andare a inserire lo stop nel muro. Voi immaginate che ne sono a parete i polistirolo, mettete un tassello, quello non regge poi il quadro. Se avete il polistirolo, magari fate un foro in linea, poi iniziate a compattare, attorno a quel foro avrà un polistirolo più duro. Lì posso mettere il tassello, e magari c'è la probabilità anche che mi regge. Se io faccio questo, che si chiama osso-densificazione, cioè intanto un valore più alto di torque, e in più fa così la curva. Non ho questo picco che va lì sotto. Noi l'abbiamo sempre fatto questo. Poi quando è uscita fuori la tecnica, per venderti le frese da osso-densificazione, le abbiamo lasciate lì. Perché ha detto, ma scusa, fai come sempre fatto, il reverse della fresa quando vai a inserire. Basta, c'è un tastino che si chiama il reverse, che si usa quando ti si incastra il trappano. Allora vai al contrario. Nelle ultime frese facciamo sempre al contrario. Perché avendo tanti casi dove osso non ce n'è, avevamo capito e ci dovevamo inventare qualcosa per far tenere gli impianti. avevamo già inventato l'osso-densificazione, solo che non ci abbiamo fatto i soldi. Sull'osso-densificazione abbiamo fatto il kit di frese. Alcune cose le puoi superare. Poi biomeccanicamente questa è un'altra storia. Nel senso che quando tu devi mettere tutta una bocca, devi capire anche che è come un tavolo, che devi avere delle gambe. Ci sono modi di curare discutibili. Io posso fare un tavolo con due gambe? Come lì sotto? Sì, puoi farlo. Ok. È rischioso? Non serve la laurea per capire che ci sono delle flessioni. Sopra c'è un balcone qua a lungo che esce fuori dalla strada. Ok. Questo è un balcone. E dove è che sviluppi più forza? Anteriore o posteriore? Posteriore. Posteriore, come uno schiaccianoci la bocca. No? Qua c'è la giuntura. Davanti non mastichi, mastichi dietro. E quindi dov'è che flette questo? Qua. Si rompe qua. Però porta anche che cosa? In flessione l'impianto. E l'osso attorno all'impianto si riassorbe. Perché quando tu vai sull'osso tutti i giorni a stimolare con pressione, l'osso si liquefa. E' il principio per cui i dentisti spostano i denti ai bambini. Mettono gli elastici, tirano in maniera costante, non tanto, pochi grammi bastano. Da una parte l'osso si liquefa, dall'altra si ricrea. Questo funziona con i denti naturali. Con gli impianti no. Perdi l'osso attorno agli impianti. Questo che è un campo di battaglia. Questo ve l'ho messa. E' molto molto interessante questa. Perché è una lastra che mi è stata portata proprio da poco, la settimana scorsa. Ed è questa. Non è un dentista italiano che l'ha curato. E se no ci denunciano. Vi traccio quello che è il profilo dell'osso, qua sulla lastra. Qua. Qui. Qua. Qua un impianto già l'hanno tagliato e una punta l'hanno lasciata dentro. Qua. Qui. Qui. E qui. L'osso è qua. Quindi significa che quelle spire sono tutte fuori dall'osso. Sotto è ancora... L'osso è tutto qua. Attorno all'impianto. Qua. Sale. Vedi tu quest'alone scuro. Qui. Qua. Qua hanno messo un impianto a lama che si usavano negli anni 60. Ok. Sì. Tac, 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 tac. Lo inserivi dentro. Non è che non funziona. Funziona. È ottimo come impianto quello. È ottimo. Il problema è che è superato perché è un impianto dove i denti li incolli sopra. E poi c'hai altri tipi di problemi. Ma si integra. Tutto quello che è titanio nell'osso, se tu lo metti e chiudi, si integra. L'impianto, il titanio si integra nell'osso. Si usa in ortopedia, in odontoiatria. Si usa il titanio perché? Perché integra. Viene riconosciuto. Il problema non è l'impianto qua. Ok. Ma è come hanno messo i denti sopra. Questi sono denti incollati. Ok. Questi denti. Guarda qua la punta. Qua si incastra cibo qui sotto. Qua hanno unito invece radici naturali che sono ammortizzate nell'osso con impianti che invece sono rigidi nell'osso. Quindi flette qua davanti la bocca. Pensate voi meccanicamente sta bocca. No. Davanti flette perché ha ammortizzatori. Dietro ha due cose rigide che tengono il ferro di cavallo in bocca. Cosa è che succede? Che qua dietro flette l'osso attorno agli impianti. E quindi si liquefa l'osso come vi ho detto. Lo perde. E quindi da togliere che cosa? Impianti, radici e questo. Anche l'osso qua dietro ormai è a metà degli impianti. Sopra questi sono viti. Come facciamo a toglierle? Si sviti. La viti, la sviti. Oppure se non viene proprio la tagli e la lasci lì sotto dormiente. Comunque titanio integrato. Noi delle volte tagliamo anche le radici e le lasciamo lì sotto dormienti. Quando per esempio abbiamo un osso molto sottile e ci sono ancora delle radici dentro. Ok. Cosa succede? Se noi dobbiamo mettere impianti vicini che se tolgo quella radice, gli ultimi pilastri rimasti, l'osso poi fa così, guarisce così. E mi sono giocato il volume di osso dove potevo mettere l'impianto. Posso espanderlo eccetera. Per in quei casi conviene invece tagli la radice, no non crea problemi. O se crea problemi la togli la radice, fai tagli la gengiva, la sfili, ma intanto hai già messo gli impianti vicini in un buon osso. Quindi, ma non danno quasi mai problemi. Ste radici le tagli e ti mantengono il volume dell'osso. Qua poi sopra cose che ha fatto, ha messo nella parte destra e sinistra, queste le ha unite, tutto con una protesi che è incollata sugli impianti. Questa è la dimostrazione che le protesi incollate causano tensioni sugli impianti, perché la connessione qua è una connessione attiva, non è passiva. Invece le protesi tira, sì, tira l'impianto, capito? Quando tu le avviti tra di loro, essendo gli impianti tutti divergenti, si vanno a creare delle tensioni. E quelle tensioni fanno malissimo poi all'impianto. Invece una protesi, normalmente, è una protesi che ha dei fori, che si poggia sopra dei piattelli, che sono i piattelli che stanno sopra agli impianti dentali. Ve la faccio vedere qua, c'è un'immagine che vi spiega com'è fatta. Ecco qua. E questa protesi non sviluppa tensioni sugli impianti. Io ho praticamente gli impianti nell'osso. Sopra c'è uno snodo con un piattello. Vedi la base di appoggio, questa? Questa è la base di appoggio, base di appoggio, base di appoggio. Su quella base di appoggio c'è anche gioco tra il foro che c'è nella protesi, qua c'è l'altra base di appoggio. Si poggia e non crea tensioni. Quando è entrata si stringe, si avvita. Questa è una protesi avvitata. Ve la potete anche passare così vedete i piattelli sotto come sono fatti. Sono delle cupolette e quelle cupolette permettono di non creare tensioni. Qua vado avanti. Questa è 6 oppure 8 può essere? 6, 8, 4, dipende da quanto osso hai. Questa invece che vedete qua a monitor è una lastra che ha gli impianti dentali con i pilastri che escono dalla gengiva. Questi qui. Quelli da incollare? Questo è l'impianto, esatto. Qua incollano i denti sopra. Questi pilastri, capisci che quando inserisci i denti, da qualche parte tira. E sono queste le forze laterali, le uniche forze che l'impianto non sopporta. Perché quando le trasmetti all'osso, vi ho detto prima, tiri e si riassorbe. Perdi l'osso attorno all'impianto. E si vedeva molto bene qua come si riassorbe l'osso attorno all'impianto. Si crea proprio un cono di riassorbimento attorno all'impianto. Questa parte scura. Qua e qua. Qui osso non ce n'è. Qua è tutta roba morbida, gengiva. Perde da solo, si ritroverà l'arcata in mano. Ma se smetti le sollecitazioni, l'osso si riassorbe. No, è perduto ormai. Perché quello che succede è che quando l'osso si riassorbe, qua, la gengiva pure si stacca. Entra un biofilm di batteri, qua, che è uno yogurt che non fa più riattaccare la gengiva, né formare l'osso. Anzi, lo fa solo allontanare di più, un'infezione. È una tasca sull'impianto. Una tasca profonda sull'impianto, che si chiama perimplantite. Ve la faccio vedere qua. Perimplantite. La perimplantite può essere o perfumo, oppure proprio meccanica. Vedi, l'osso attorno all'impianto si riassorbe. Ed è una cosa questa, vedi qua come inizia. Ma qua se vai a aprire, se vai a aprire, vedi, poi nello stadio più avanzato proprio c'è gli impianti esposti. Si riassorbe completamente l'osso. Qual è la soluzione in questi casi? Ok, una, togli tutto l'impianto. Sviti, ricostruisci l'osso, fai l'opposto di quello che si è verificato. Hai perduto l'osso, perdi l'impianto. Togli l'impianto, ricostruisci l'osso, rimetti l'impianto, per esempio. Oppure, cosa puoi fare? Puoi lucidare, abbiamo detto che il problema è il biofilm che si crea sull'impianto. Vedi qua? Tipo la levigatura radicolare. Fai tipo la levigatura radicolare, lo devi lucidare l'impianto, gli togli tutte le sfire, lo rendi lucido a specchio. Poi ci metti l'osso e devi sperare che non ci sia rimasto qualche batterio sulla superficie, sennò quello ti ricrea il biofilm. Tasso di successo, molto basso. Funziona, però è basso, nel senso l'osso non ti si riformerà mai fino a qua, ti si riforma fino a metà. Ok? Quello che si vede sempre in quella... Sì, altra cosa è se ti rimane l'impianto, svitalo, ricostruisci questa taschina mettendoci dell'osso dentro, chiudi con una tenda, chiudi le gengive, un punto, due punti e aspetti che guarisce. E poi rimetti dopo quattro mesi l'impianto. Ne facciamo tanti di questi, però noi preferiamo sempre svitare via gli impianti, perché poi gli impianti se hanno creato questo problema è perché c'era una causa a monte, la protesi. Però se c'è la protesi, la componentistica per incollare, e io devo fare un'arcata completa, non costruisco casa con le bombe sotto, tolgo tutto, faccio pulizia completa, il paziente non è che torna qua sempre con i problemi, devi chiuderli. Già sono tanti quelli con cui arriva, sono reinterventi chirurgici, sono rischi accumulati di tante zone della bocca che insieme danno un rischio accumulato elevato. Quindi in questi casi devi eliminare i rischi, cercando di creartene anche meno possibile. Poi taglia largo, quello che dicevo sempre alla prima squadra chirurgica, tagliate largo, non fate quelli che vogliono salvare, perché vi state solamente mettendo il paziente sulla poltrona tra 4 mesi che torna. Tutte dopo le facciamo, andiamo avanti perché dobbiamo parlare di tanto. Ora abbiamo appena parlato di quelle che sono le problematiche protesiche, quindi se noi possiamo evitare di farci problemi, mettiamo protesi avvitate, avete capito perché. Andiamo su un'altra lastra, andiamo qua di fianco. Altra cosa sono i materiali, ok? Qua vedete in trasparenza le barre e poi qua si intravedono i denti in plastica, resina. Perché i denti in resina non vanno bene? Perché la resina assorbe acqua, ok? E si crea il microfilm batterico sulla resina. La resina è un materiale che non dura in bocca tanto tempo, anzi la resina tende a cristallizzare con l'acidità della bocca, come le persiane al sole. Questa è una, per esempio, una protese in resina. Vedete che è porosa la resina. Ok, questa è una protese in resina. La ceramica, lo zirconio, il composito sono molto più stabili nel tempo. Invece la resina noi la usiamo come protesi provvisoria. Quattro mesi, massimo un anno, poi va buttata e vanno messi materiali stabili in bocca. Perché in bocca l'acidità c'è. Se poi uno fuma, prende il caffè, il pH scende e si deposita al tartaro, si deposita sulle protesi. La resina poi cristallizza e si può rompere anche. Ok, questa è resina con immerso metallo dentro. Si rompono. Ok, è plastica. Che poi la chiami resina o plastica. Non dura dieci anni, vent'anni. Assolutamente. Qualche anno, massimo. Ma si può rompere, perché è plastica. Vi sto portando ora piano piano verso i problemi della protesi. La protesi può essere fatta con materiali anche più sofisticati. Qua quanti materiali vedete? Due ne vedete. Una parte interna metallica e una parte in resina esterna. Quelli che vi mostro adesso invece sono dei denti dove c'è un'anima interna in titanio, che è questa. Una parte esterna in polimero, che è questo. Una dà resistenza. L'altra invece assorbe i carichi masticatori. Lo zirconio nella parte esterna e il composito che simula la gengiva. Qua sono già quattro materiali all'interno di questa protesi. I colletti sono lucidi, tirati a lucido. Perché? Perché la parte è questa dove non voglio che si crei attacco biofilma batterico. Devo portare la protesi il più possibile oltre la gengiva. E traghetto la protesi oltre la gengiva con questi colletti. Gli impianti stanno protetti dentro alla gengiva. Poi ci sono quegli snodi, piattelli. Porto ancora più sulla protesi e inizio a simulare quello che ho perduto nella bocca. I denti e gengive e osso. Poi simulo anche le superfici, le texture di superficie. Vado a inquadrare i denti nel sorriso. Questa è una bocca bionica. Ok, sotto, dentro. E com'è questa? Non sono denti sensibili. Significa che mancano di cosa? Di tattilità. Non sentono il gelato, il caldo, il freddo. Non si sente. Se mordi un capello non lo percepisci. Che hai un capello tra i denti. Con i denti naturali si tiene uno spillo. Con i denti naturali. Con i denti artificiali non hai questa sensibilità. E qui andiamo verso invece i problemi veri e propri su 10-20 anni protesici. Il fatto che ci manca il feedback sulle protesi che noi mettiamo in bocca. Il cervello non sa quanto forte sta stringendo e dove esattamente stanno toccando i denti. Ok, questo è uno dei principali motivi, io potrei dire il 90% dei motivi per cui i denti si rompono. I denti artificiali. 10% scelta dei materiali. Ma anche i migliori materiali, se ne fai un uso scorretto, oltre i limiti, anche quelli hanno il loro limite di rottura. E si rompono. L'igiene, così così, non è così determinante. L'igiene alla fine è un qualcosa che tu puoi sempre correggere. Motivi il paziente col colorante e migliori l'igiene. Ma il rischio di rottura c'è sempre. Per quali motivi? Non solo perché il paziente magari non si limita in quello che mangia, ma magari anche degli spasmi muscolari notturni. Quante volte avete avuto uno spasmo di notte? E delle volte anche io ho rischiato di rompere i denti di notte, magari facevo l'incubo e ho avuto uno spasmo, una contrazione in lateralità. Oppure che parlavo e mi è scappata la mandibola e sono morso la lingua, nella migliore dei casi, oppure proprio ho mandato i denti al contrario e ho tirato. Sapendo che c'è questo limite, lì bisogna andare a creare che cosa? Nella protesi delle ritenzioni sui denti. Vedete qua, questa la potete passare tra di voi e la struttura interna in titanio ha delle ritenzioni per i singoli denti. Cioè i singoli denti che vengono poi messi sopra, che sono composito, zirconio. Si, poi sopra vedi ci sono, queste vanno finite di ceramizzare, però sono le strutture, perché ci possono essere forze di flessione, per cui è meglio mettere un qualcosa che trattiene, che sia pectone o titanio, dentro serve qualcosa che trattiene il materiale. Qua parliamo proprio di una, no è leggero quello, è leggero alla fine. Ve lo schematizzo, così capite l'importanza delle ritenzioni all'interno della protesi. La protesi se non ha le ritenzioni c'è il rischio che poi si staccano i denti. Questa è una barra liscia e ci metto i denti sopra. Questa è la barra per esempio in titanio sotto e immersi ci sono i denti con la resina. Ve l'ho fatta vedere prima, vi faccio vedere anzi qua. Ok, la vedete qua, quella lì su, è una barra liscia. Qui c'ha i denti in plastica, in resina e vi ho detto che si possono, che trattengono cibo, ma se strappa c'è altro rischio che si rompono. Qua c'ha delle piccole ritenzioni, che già vanno meglio. Quindi la ritenzione è quella più bella. Macromeccanica, sì. Un pin che entra dentro e che evita che le cose si stacchino. Ti faccio vedere una radiografia per esempio di una linea premium, dove vedi bene, bene, bene queste ritenzioni. Ah, ecco qua per esempio, guarda. Per ogni singolo dente c'ho la ritenzione in titanio, poi quella entra dentro il pecton e sopra ci metto il dente. Ok. Questo è un altro, delle volte le puoi fare, i bimateriali, delle volte ti conviene invece usare solo il pecton, invece che mettere il titanio. Dipende da caso a caso, a quanto è anziana la bocca, non il paziente, la bocca. Quanto è scoordinata. E il pecton è anche sul pecton? Come? Anche col pecton? Puoi fare ritenzioni, sì. Però devi avere spessore. Ok. Se non hai spessore, il pecton c'è il rischio, vedi qua non avevamo tanto spessore per fare solo pecton. Se io mettevo solamente pecton così, qua si rompe. Ah, ok. Capito? Allora ho bisogno di una barra sotto che mi sostiene. Ah, la barra va solo sotto? La barra va solo sotto. Sì, sì, sì. Poi fuori simulo i denti con lo zirconio, per esempio. Potrebbe essere anche composito, ok. Ma quello che è importante è quello che tu metti sotto. Sotto l'ideale è avere materiali che sono simili all'osso, il pecton. Però quando hai poco spazio, quando hai molto spazio puoi fare solo pecton. E devi comunque avere i denti che cadono dove cadono gli impianti. Nei, per esempio, zigomatici, che cadono molto indietro gli impianti, i denti saranno avanti, conviene tutto titanio. Se no questa leva fa rompere tutto. Perché i denti sono qua, gli impianti sono qua, mastica oggi, domani, questo flette si rompe. È un polimero quello. Va bene per assorberne bene gli stress e compressione, ma non flessione. C'ha dei limiti anche qua. Ogni materiale ha un pro e un contro. Per quello le accoppiate dei materiali ci riescono a risolvere le cose. Sfruttiamo il pro di un materiale unito al pro di un altro materiale. I monomateriali hai sempre problemi. Quando poi vai... Vi volevo far vedere la radiografia proprio di com'è questa linea. Ve l'avevo messa... Eccola qua su. Eccoli qua. Prima di cambiare la slide, con la gengiva è naturale o pure... No, artificiale, artificiale. Sembra, fatta bene, è realistica. Vedete i pin qua. Questi sono dei pin più lunghi che vanno sicuramente meglio di questi. Ok, questi sono meno ritentivi di questi. Qua c'ho i singoli denti che hanno proprio un pin di titanio che gli entra dentro. Qua vedete, se zoomo, tutte le componenti di cui vi ho parlato. C'è l'impianto nell'osso. Questo è il piattello su cui poggia poi la protesi. Ok, questa è la protesi. Questo è il piattello che serve a unire la protesi con l'impianto, il multi unit. E dentro c'ha una vite che lo unisce, lo tiene, è tipo l'ancora e poi tira. L'abatment. Il pilastro, si chiama pilastro ma non è un pilastro, è un piattello. Quando tu metti un dente, puoi mettere il pilastro che esce fuori e cementi il dente. Ma quando hai tanti impianti, gli impianti sono tutti sghembi tra loro. Devi poggiare una protesi che non può andarsi a infilare su tanti pilastri che escono così dalle gengive. Elimina i pilastri, metti dei piattelli, poggia la protesi, stringi. I piattelli sono avvitati dentro agli impianti. Quindi quel foro che hanno gli impianti lì dentro è il foro che serve all'ancora. E l'ancora è una vite che si inserisce, blocca il piattello poi su quello. E poi c'è un'altra vite che blocca i denti proprio al piattello. Ve la faccio vedere su quell'altra slide che c'era prima, questa te lo fa capire bene. Ecco qua. Hai l'ancora che sarà questa nera, che ha la filettatura, che entra dentro il piattello, l'abatment, che è uno snodo meccanico, che si inserisce dentro l'impianto, si incastra, c'è un incastro, qua vai fa tac e questo va a stringere e lo tiene unito. Poi qua c'è un altro foro per l'altra vite che unisce la protesi. Non c'è colla, non c'è cemento qua. Perché la parte debole è sempre il cemento, la colla, che dopo un po' si scioglie. Capito? Questo invece è l'altro pilastro. Hai praticamente l'abatment che finisce con una vite, è tutto un pezzo unico, si avvita. E poi qua sopra un altro foro che serve per questa vite. Quindi è ai gioco tra questo piattello e il piattello che ci andrà sopra, di modo che non ci siano tensioni. Questa è una protesi incollata. Questi sono gli abatment, quelli che vi ho fatto vedere prima in lastra. Gli abatment questi che fanno uscire dritti, che costano 10 euro in meno, quindi risparmiano pochi soldi e mettono la protesi sopra incollata. Questa è la cementata. Questi sono i buchi, le alloggi dove mettono la colla e poi la zeppano sopra quei pilastri. Però non le sollecitazioni sono tutte. Hai due tipi di problemi. Intanto c'hai due tipi di cementi che puoi usare, o quello definitivo o il semidefinitivo, l'implacem. Il semidefinitivo si scioglie. Se si scioglie ci va la saliva poi dentro. Perché si scioglie il gap di cemento che c'era, ci entra saliva con i batteri, col film batterico e iniziala per implantite. E ci perde gli impianti. Oltre questo, quella vi ho detto è un qualcosa che va a tirare poi sugli impianti. Vedi che sono tutti sghembi. Anche per quanto provano a limare, ok, questo è un lavoro molto sporco. Qua con la fresa allimato per cercare di far entrare i denti. Ma non è il modo corretto di fare una protesi questa, di connetterla. Qua dovrà usare il cemento e il cemento cosa fa? Fa infiammare tutte le gengive attorno. La precisione per il cemento tollerata è 0,12 micron, che è lo spessore di un capello. Se tu hai uno spazio maggiore, quel cemento irrita la gengiva e ti viene la perimplantite. Siccome qua non c'è la precisione di un capello, qua c'è, questa non penso neanche che entra la protesi. Qua la devi tagliare in più pezzi per farla entrare la protesi. Vedi che è molto sporca qua la preparazione. Questi non ci devono essere, invece ci devono essere questi, i piattelli su cui si poggia la protesi. Questa è la maniera corretta di connettere gli impianti, questa è la maniera scorretta. E questa è una cosa che non sa nessuno. Anche molti colleghi la sottovalutano questa cosa, perché facendo magari poche protesi non ti ci metti neanche a ragionare sui motivi per cui magari quell'impianto ha avuto infiammazione o l'hai perduto, eccetera. Quando invece ne fai tanti, inizia a ragionare su come abbattere i problemi. E capisci che non usare le colle e i cementi è meglio, perché sono la parte debole. Invece io preferisco avere una connessione che è meccanica, che in caso di problemi, vi faccio vedere qua, se io ho problemi su questi impianti per esempio, io ho un abatment che ha un foro con la vite che entra direttamente dentro all'impianto, si ancora. All'altro modo, se ho problemi sulla protesi, svito l'altra vite. Ma l'altra vite, che si avvita sull'abatment, se quello si spana, io sviterò una volta quella che connette l'abatment. Cambio l'abatment e rimetto la protesi nuova. Cioè mi danno anche più durata poi nel tempo in caso di problemi, mi danno più chance di poter rintervenire. Qua se io devo togliere col cemento definitivo sta protesi, la devo tagliare per toglierla, non si stacca più. Invece l'altro, io cosa faccio? Stacco il tappino, ve la faccio vedere qui, svito, eccola qua, una protesi finita. Vedi qua i tappini? Ve li faccio vedere. Eccoli qua, uno e due. Questi sono i fori di accesso della protesi. Eccoli qua. Si vedono. Ok. Se si vedono è meglio, perché se dobbiamo intervenire sappiamo dove dobbiamo togliere i bulloni per cambiare la ruota. Se invece questa era incollata, qua era tutto un monoblocco, non si vedeva nulla. Dovevo o col martelletto iniziare a dare martellate, oppure tagliare, fresare. Avete mai provato il martelletto? Il mio amico ha detto che fa male. Ok. Non è piacevole, c'è il rischio che si rompono poi i materiali. Quando dai colpi o peggio, si rompe la vite dentro all'impianto. È una cosa da non fare mai, smartellare, tirare sopra agli impianti dentali. Perché gli impianti hanno delle viti che si possono spezzare all'interno. Se quella si spezza, supponi che io ho un impianto dentale. All'interno abbiamo detto c'è un foro dove c'è la filettatura, qua attorno, con una vite che entra dentro. E poi c'è quel pilastro, quello incollato, cementato. Io per togliere devo smartellare qua, c'è il rischio della vite, questa si spezza. A quel punto devo carotare via l'impianto. Quello è l'unico modo che rimane. O carotarlo, oppure cercare di svitarlo. Spezzo questo, faccio un foro, metto un tronco di cono che gira al contrario, che si incastra e svita. Cerca di svitare. Ma se questo è integrato nell'osso, anche se giri, non sviti nulla. Giri il paziente. E quella non è una cosa da poco. Perché là, proprio da poco, stavo facendo una revisione, sto preparando la parte che dobbiamo fare a Firenze, dove parlo di bocca bionica, di come si comporta in maniera differente dalla bocca naturale. Voi pensate come è fatta una dentatura naturale, no? Vi faccio vedere una lastra di una bocca naturale. Quante radici abbiamo? Una per dente. Abbiamo, giusto? Secondo voi la bocca naturale? Allora, eccola qua. È un apparato flessibile o rigido? Certo, è molto flessibile. Ogni singolo dente lì flette, si muove. Vi ho detto, poi è cosa? Sensibilità. È sensibile. Voi pensate, un'arte artificiale ha la stessa flessibilità di un'arte naturale o no? Completamente diversa la flessibilità. Ho la mano che mi si muove così, o sono limitato, io invece sono molto più flessibile. Stessa cosa è nella bocca, nella dentatura. Ho tolleranza, posso anche schiacciare e rompere un osso, è difficile che si rompa un dente. Invece una bocca artificiale c'è alta probabilità che si rompa. Questa è una bocca bionica. E io non scherzo quando dico che è una bocca bionica. Non c'entra nulla con la natura. Questa è un apparato con osso, dentina, smalto. Qua c'ho titanio, composito, zirconio, polimeri. Non sono sensibili. Qua ho anche i denti del giudizio, ma arrivano fino addietro. Posso masticare le noci anche con gli ultimi denti. Qua è un'arcata più piccola, più corta. Non arrivo fin là dietro. Qua c'ho viti e non ho, è una macchina senza ammortizzatori. Questa è una macchina con gli ammortizzatori. E se qua vado vicino al punto di flessione, di rottura, ti viene dolore e ti fermi prima. Qua non senti dolore. Te ne accorgi che hai sorpassato il limite perché si rompe e te lo ritrovi in mano e dici si è rotto. Perché si è rotto? Perché mangiavi cibi duri o perché non avevi il controllo mentre mangiavi? Perché non avevi il controllo. Corretto. Ok, il paziente ne ha colpa fino a un certo punto. Quello che noi possiamo dire al paziente è limitati visivamente. Sai che alcuni cibi li puoi mangiare e altri no, sono vietati. Sai che l'uovo, le fettine le puoi mangiare. Ci sono i cibi X vietati che non si possono mangiare. Devo fare la lista di quei cibi. Tipo le torte che possono avere i gusci di noci dentro alle torte. Ci possono essere gusci di frutta secca. Anche quelli non li senti quando mangi le torte. Però te ne accorgi dopo. Il riso, il riso è vietato. Perché ci sono le pietroline in mezzo al riso. A meno che non lo setacci bene. Quello rompe in assoluto più denti in assoluto il riso. Specialmente quando è sporco. Prima si controllava. Oggi da quando lo compri sale grosso. Meglio usare sempre il salino. O il sale fino. Questa è come è fatta da vicino. C'è il pecton. Sotto c'è una struttura in titanio. Sopra simuliamo le gengive. Però qua non sente il caldo e il freddo. E neanche qua. E puoi mordere il ghiaccio. Sono belli da vedere ma sono finti. È come il museo delle cere. Sì, sembra vero, ma è finto. Vai con l'accendino, vedi come si squaglia. Questo prende fuoco? Probabile. I polimeri prendono fuoco. I compositi può prendere fuoco. C'è una componente. Non è tutto di vetro. Questi sono i fori di una protesi in plastica. Resina. La resina la riconosci. Questa è resina. Questa è composito. Composito è un materiale più vetroso. C'ha particelle di vetro all'interno. Come fareste voi? Adesso vi faccio diventare ricercatori. Come fareste voi a superare tutti questi limiti di cui vi ho parlato? Intanto abbiamo un'ispirazione. L'ispirazione che è la natura. La natura che cosa ha in più ora rispetto a quella dentatura che vi ho fatto vedere? Intanto la sensibilità. Quindi quello sarebbe un primo problema che se dovessi fare ricerca mi metterei domani a studiare. Come ridare sensibilità? Avete mai visto gli arti artificiali? Dove sono arrivati oggi? Un uovo senza spezzarlo. Perché hai un feedback che stimola quando il sensore di pressione viene stimolato. Hai bisogno poi di cosa? Di un algoritmo. Un software che ti dice alt. Ok. Rilascia la scossa elettrica. Ok. Oltre questo cosa hai bisogno di farlo? Non puoi tenere i pazienti attaccati al computer. Devi miniaturizzare. Quindi ti servono lì ingegneri che miniaturizzano e che vanno magari a prendere già gli algoritmi che ci sono. I sensori di pressione che già ci sono, che oggi usiamo con delle forchette, che metti in bocca, provi a verificare, ma non sono ancora così precisi. Perché un conto se io ho… ecco, avete mai fatto voi il controllo, il check dell'occlusione con le cartine in mezzo? Quelle scure. Quelle scure. Ok. Quelle cosa mi danno? Indicazione di dove toccano i denti. E quindi vado a limmare. Che informazione manca lì? Importantissima. La pressione. Il livello di quanto tocca. Un conto è tocca lì. Ok, ma quanto forte sta toccando? Ok. Bravo. Noi stiamo già al lavoro su quello. Noi stiamo già al lavoro su quello. Ok, questi sono i punti di pressione. Però il colore e quanto è alta la barra mi dice anche quanto forte sta toccando in quella posizione. Qua sono vicino al limite di rottura, come pure qua. Blu va bene, sono verde e ok. Giallo inizia la pressione. E posso verificare anche in dinamica in tempo reale. E posso vedere anche sul modello esattamente dove mi stanno andando a toccare i denti. Qual è il limite di questo? Lo posso fare una volta, ma non mi dirà al paziente, cioè dove è, oh, fermo, non mordere. Che posso fare un assetto, un bilanciamento, ma è tanto quanto quelle cartine occlusali. Hanno fatto gli studi dove hanno visto i limiti, le rotture avute con la carta d'articolazione e con quello sono simili. Perché i denti si rompono quando il dentista non è a casa col paziente che gli misura le pressioni. Perché si fa un uso scorretto dell'arto artificiale. Ed è lì il fattore umano, il fattore proprio la psicologia del paziente. Limiti molto di più le rotture spaventando il paziente. Facendogli vedere i denti rotti. Io ho un amico che fa lo svolone e spacca le nocce. Lo vedremo in Moldavia, lo vedremo. Questo per dire che la ricerca deve andare a creare delle bocche artificiali che allertano il sistema nervoso centrale in tempo reale su quella che è la pressione. Se in un momento stai andando a stimolare troppo una zona, devi avere subito la scossa che ti dà il feedback e che ti dice alt, fermo. Ti pensi che in futuro ci possano essere dei sensori da mettere tipo nel piattello che possano andare a queste... E perché non mi vedete? Per quello. Io morirò in aereo viaggiando. Ormai ho già fatto il giro del mondo tre volte. Statisticamente sovvicino. È meglio condividerle con altre persone in giro nel mondo. Così rimangono. Ok, ora una prossima tappa che c'è proprio in Australia, per questi sensori qua di miniaturizzati. Fare si può fare tutto. Noi abbiamo... Eh, ora mi fate parlare di cose, devo parlare a Firenze. Ah ok. Se ne... Sì, c'è il modo, ok, c'è il modo. Voi tenete conto, vi dicevo prima, ecco, immaginate questa bocca. La bocca è un ferro di cavallo di metallo che tiene uniti altri pezzi di metallo ficcati. La mandibola flette. Quando... Voi pensate il serpente. Ha una bocca che è tutta flessibile. Così è la natura. La natura è una bocca che è iperflessibile. Per quello vi stavo facendo vedere questa radiografia prima. Tutti i denti flettono. Quando noi blocchiamo invece l'osso mandibolare, la mascella, con queste cose da paleolitico, ok, perché non essere dentisti, essere maniscalchi. Hai ferrato un cavallo. Hai messo un ferro di cavallo bloccato su 4 o 6 perni. Quanto c'è di biomimetica, di simile alla natura? Zero. Però siamo nel 2019. Ok? Siamo molto indietro a livello di biomimetica di quello che è il dispositivo che mettiamo nella bocca del paziente. Quello che succede è che stai bloccando l'osso. Stai bloccando l'articolazione, perché l'articolazione, i denti non si romperanno finché entrano in contatto in quei binari. Però la natura, che non è stupida, ci ha creato degli ammortizzatori di tolleranza, perché la bocca sta in un apparato muscolare che si muove, è sempre flessibile. Tutto siamo a 90% acqua, non potevi fare delle cose fisse. Noi invece abbiamo messo delle cose cristallizzate dentro un ambiente dinamico. L'obiettivo è o crei delle cose che si muovono sopra una struttura, ma colmi il gap di non avere il feedback, oppure usi per ora dei materiali, delle accopiate di materiali, quando è possibile che c'è spazio stress assorbente. Il pecton, lui c'ha pecton, lui è un caso di pecton sotto, dorme, ormai lui sta in culla. Ma fa bene, lui ha finito il percorso ormai, ha dato. Lui ha dei denti che difficilmente si romperanno, perché c'è un tanto così di pecton sotto. Ok, pecton, quelli sono ammortizzati. Però non sempre c'è lo spazio, un paziente giovane difficilmente è possibile usare il pecton, perché ha un osso, ha perduto molto meno osso, una bocca giovane. Quando è perduto molto osso, allora lì è possibile usare, lì conviene usare il superior, oppure fare accoppiate, superior, premium, sotto mettere dei denti in composito che sono più morbidi, anche più morbidi del pecton. Cioè noi che abbiamo perso molto osso siamo avvantaggiati. Sì, che ha perso più osso è più avvantaggiato, perché possiamo usare più materiali. Io l'ho perso più osso. Quando? A zero. Quando invece, lei invece no, ha titanio o zirconio, è più rigida, ma lei ha una bocca comunque molto più, meno slegata della sua. La sua ha una bocca molto più da ruminante. Lei non ha la bocca completamente slegata, la sua è molto più giovane. Lei è difficile che vai in precontatto. Quello che faremo in futuro cos'è? E' andare a miniaturizzare, mettere delle parti all'interno che danno delle piccole scossettine elettriche che danno al periostio, oppure alla gengiva vicino, la gengiva è sensibile. Se voi ci pensate, mettete uno spillo sulla gengiva vicino all'impianto, ha voglia che lo senti. È come uno spillo sotto l'unghia. L'unghia non senti lo spillo, ma sotto sì. Quindi io posso usare che cosa? Quel colletto che vi ho fatto vedere prima, che sono già questi... Dove ce l'avevo qua la foto e ve la facevo vedere? Eccola qua. A contatto con la gengiva. Quelli sono le superfici di trasmissione. Queste. Ok? E posso usare queste superfici per trasmettere delle piccole correntine elettriche che mi danno della sensibilità. Quanto c'è ancora di simile alla natura? Ancora niente. Non per venti. Ancora nulla. Ok. Perché comunque non stiamo parlando di trappianto di denti, di ricostruttiva, di rigenerativa dei denti. Per arrivare a quello ce ne vorrà tanto proprio. Perché stanno facendo già degli esperimenti con le staminali. Il problema delle staminali è la complessità del dente. Il dente è una delle cose degli organi più complessi come si crea. Proprio a livello embriologico è bello. È anche difficile da capire. Infatti è stata una delle cose che più ci ho messo a studiare e capire. Perché non capivo bene questo foglietto come era ripiegato. Voi prendete un foglio di carta, così, la cartocciate. Da questo foglio di carta, ok, da un lato ci sono un tipo di cellule, dall'altro lato altri tipi di cellule. Qua all'interno si formerà che cosa? La dentina, la parte interna del dente. Da qua si creerà lo smalto. Però abbiamo tanti foglietti di carta a livello embrionale che pian piano si dispiegano e prenderanno delle forme tutte diverse tra loro. Molari, premolari, canini. È qualcosa di unico, di perfetto. Se tu ci fai a pensare, l'orientamento delle singole cellule che poi depongono i prismi dello smalto. Perché lo smalto è poi come, avete mai visto il salgemma? Quelle pietre che hanno dei prismi, quelle pietre minerali. È così lo smalto. Ha dei prismi minerali che sono stati rilasciati da delle celluline che camminavano e deponevano lo smalto. Poi arrivano fuori, sbucano in bocca, quelle cellule muoiono. Quelle cellule poi vanno anche dentro, creano la dentina che ha anche dei buchi in mezzo. Dove dentro ci entra un nervo che dà sensibilità. Quei buchi c'è il liquido. Quando tu vai a flettere un dente o metti calore, il liquido cambia di dimensioni e spinge il nervetto che c'è dentro a quel tubulo, quel tunnel. Quello dà la sensibilità al cervello che c'è caldo, calore. È il sensore proprio. Parliamo di una miniaturizzazione di sensori lì che la natura fa impallidire. E hai sensori poi attorno agli ammortizzatori della radice che ti danno la tattilità e sensori di calore e dolore. Così ti innesca cosa, cioè è a favore della sopravvivenza. Ti dà informazioni. E tu immagini una macchina senza spie, spiete, lucette, probabilità che fonde il motore. Più spie c'hai, più interruttori e sensori c'è nella macchina e più è facile andare dallo psicologo. Ok, dopo. La complessità c'ha questo svantaggio. Anche? Molti sensori. Questa è una cosa poi unica e perché vi ho parlato di questo? Perché se noi parliamo di cellule staminali stiamo parlando di cosa? Della possibilità di coltivare queste celluline. Si possono coltivare, sì, però te ne va una qua, una lì, una là, ti esce una... La stella, come si chiama, quella del deserto, la rosa del deserto invece che un dente ti esce. Hanno fatto gli esperimenti ma non sono denti quelli. Non sono, cioè, la cosa più difficile è proprio l'orientare. La problematica delle cure con le staminali è questo, che riescono a coltivare ma non a dare garanzia della direzione in cui si moltiplicano o della velocità con cui si moltiplicano. Là c'è il rischio che ti innescano che cosa? Un tumore. È una crescita incontrollata delle cellule. L'orchestra della natura, di come gli eventi avvengono poi in sequenza, uno dopo l'altro. Voi immaginate una donna incinta. È una cosa magica il concepimento. Come uno spermatozoo entra nell'ovulo e inizia tutta una sequenza. Che le cellule da una diventano due, poi quattro. Però come fanno a scegliere esattamente l'orientamento, a diventare con questa forma? C'è una magia in tutto questo che difficilmente sarà replicabile. Quello che potremmo fare è stare almeno 4 milioni di anni indietro a cercare di fare con le pietre il fuoco e cercare di emulare la masticazione, il colore dei denti, le forme. Però ci sono già delle cose che sono acquisite ad oggi che non vanno fatte, che vi ho fatto vedere in queste lastre, dove se possiamo evitare di crearci problemi, evitiamoli. Sono nel DNA, che poi magari esiste o non esiste il DNA. Sono stringhe, musica, siamo musica, non si va verso, capito? Chissà anche se vi sto parlando, se ci siete. Se chiudo gli occhi posso immaginare quello che voglio. Siamo in connessione grazie ai sensori, occhiantato, alla vista, all'udito. Però Obama tu l'hai mai visto? No, anche io, magari non esiste. Do per scontato che magari esiste il Papa, esiste Obama, no, il Papa l'ho visto. A Roma l'ho visto. Non lo so, siamo musica, a me piace vederla così, che alla fine non prendiamoci troppo sul serio. È una bella musica questa vita, l'universo. Come in Brasile, sono felici con poco, ho imparato ad essere felice con poco, nel senso, tanto ci andiamo tutti da qua. L'importante è come te la vivi questa festa. In compagnia, cercando di aiutare le persone, che poi è uno specchio che ti torna. Ok? Lì, noi cerchiamo di fare le cose che vanno fatte con le acquisizioni ad oggi presenti, però cercando anche sempre di lasciare qualcosa. E lì nasce la voglia di fare ricerca. Cerchiamo di fare qualcosa che cambia, che migliora lo status. Se non lo facciamo qua, dove lo facciamo? A Milano, con le tasse al 50%. Non lo fai la ricerca. Non di più, non lo fai. La ricerca oggi si fa in Thailandia, Cina, Centro America, Est Europa. Lì si fa la ricerca. Perché è possibile fare tanto con poco, sperimentare tanti materiali, correggere ci costa poco, riattiva se è rotto, ok, ristampala. Tanto non abbiamo il laboratorio e lo Stato da ripagare al 70, rifalo, ok, cambia materiali, metti quello, abbiamo anzi imparato. Ogni rottura che abbiamo, noi stiamo imparando ancora di più. Stiamo imparando. E poi, alla fine, collezioniamo tutti questi dati e possiamo fare statistiche, possiamo fare pubblicazioni scientifiche. Per quello vi faccio un terrorismo, vi togliamo la garanzia se non ci mandate la lastra una volta all'anno. Così ci date l'RX per le pubblicazioni. Ok. E possiamo far vedere a 5 anni, a 10 anni, a 3 anni come è andata avanti quella ricostruttiva bionica. La parola bocca bionica non è tanto una provocazione. E' proprio quello che vi volevo trasmettere e che cerco di trasmettere quest'anno. E ricordate che in bocca avete qualcosa di artificiale. E queste cose artificiali possono non durare per sempre, dipende dall'utilizzo che ne fate. Se voi andate a... Vi faccio vedere proprio delle presentazioni. Allora, presentazioni in linea superiore. Faccio vedere, ne so, una TAC 3D. Ditemi se non è una bocca bionica. Sotto sono i denti naturali. Sopra c'è i denti artificiali. Io credo che un'immagine così non vi si romperanno mai i denti. Tutta la vita. Perché ne avrete cura. Solo con questo video vi ho fatto capire di quanto è precaria la situazione che avete in bocca. Non è niente di naturale quello che state mettendo in bocca. Tornerete a casa ferrati e sellati. Per fortuna si può fare. Si può fare, ma non è la natura quello. Ok? Non è la natura. Quando si dice la pubblicità fa distorsioni mentali. È vero. Quando io ti faccio la pubblicità ti dico, guarda, i denti te li faccio tornare nuovi come prima. Lì ti sto creando le basi per una rottura. Perché tu farai poi coi denti artificiali quello che facevi coi denti naturali. Spacchi le noccioline. E poi chiami, si sono rotti i denti e sei meravigliato anche. Ma perché si sono rotti? Errore mio che non ti ho educato. Ok. Il medico deve educare. Il medico deve educare. Grazie a tutti.